Io sono nato qui, Italia, Nord-Ovest, Lombardia, Milano, provincia di Monza-Brianza, Caponago. Sono cresciuto qui. Qui ho messo i primi passi, uno in fila all'altro. Ho detto la mia prima parola. Ho pianto e riso per la prima volta. Qui sono andato a scuola, la mia scuola. Ho imparato a leggere. Ho imparato a scrivere. A leggere un libro. A pedalare su una bicicletta. Ho iniziato a studiare e ho scoperto cosa mi ha passione. Ho potuto scegliere. Ho giocato. A calcio. A pallavolo. A basket. Ho imparato a nuotare. A cantare. A suonare il pianoforte. Ho conosciuto quelli che oggi sono i miei amici. Ho fatto festa. Abbracciato. Per la prima volta mi sono innamorata. Ho piutato il mio primo bacio. Ho potuto votare. Imparare a guidare. Avere un'opinione. Difendere un'idea. Girare sicura per le strade della città. E fermarmi a guardare le balle di fieno nei campi, al tramonto. Io oggi sono questo e non dimentico da dove vengo. Perché quello è il mio punto di partenza. Tutto quello che sono. Tutto quello che ho avuto la possibilità di fare nella mia vita. Ho potuto farlo perché sono nata qui. In questa regione. In un posto che mi ha dato l'opportunità di sognare il mio domani. Costruire la mia strada e darle forma ogni giorno. La Lombardia è una porta aperta. Spalancata sul mondo e sul futuro. E oggi, per il mio futuro, desidero questo. Io desidero Trovare un posto nella società. Io desidero poter insegnare. Riuscire a realizzare tutti i miei sogni e tutti i miei progetti. Io desidero continuare a crescere e coltivare le mie passioni. Diventare insegnante. Nel senso, vorrei veramente insegnare ciò che a me è appassionato veramente. Il design. Io desidero di trovare il lavoro dei miei sogni. Poter entrare nella scuola e avere un contatto diretto con tutti quei ragazzi che saranno il futuro di questa regione, il futuro dell'Italia, il futuro del mondo. Desidero riuscire a guardarmi indietro tra 10 e 20 anni ed essere felice della mia vita. La Lombardia che vorrei è una Lombardia Che possa aiutare i giovani a trovare il proprio posto nel mondo. Vorrei più opportunità lavorative per i giovani, indipendentemente dal titolo di studio. Dando loro diverse opportunità per sviluppare la loro opinione e crescere. È una mobilità pubblica più comoda, più efficiente e più economica per i giovani. Una Lombardia che non è riconosciuta solo come una grande industria, ma che è riconosciuta come un insieme di paesaggi bellissimi. Che riesce a valorizzare molto di più i suoi aspetti più piccolini e meno conosciuti. Più verde possiamo anche dire, più tranquilla, meno agitata, più felice. Questa è la Lombardia che vorrei.